Informare i pazienti sulle importanti conseguenze e soprattutto sulle accortezze adoperate dai medici quando si effettua un'anestesia, sia essa invasiva o non. Dal 28 febbraio al 7 marzo l'ospedale di Pescara ospita la campagna di sicurezza per il paziente sottoposto ad anestesia o rianimazione. L'anestesia è una tecnica ormai molto aggiornata e all'avanguardia, quindi la nostra società scientifica, la SIARTI, ha deciso di fare questa giornata proprio per rinformare meglio il cittadino delle varie tecniche anestesiologiche, che cos'è l'anestesia generale, l'anestesia coloregionale, che cos'è il consenso informato e quindi attraverso lo stand far vedere un po' quelli che sono i mezzi utilizzati da noi medici, quindi non anestesisti, per le varie anestesie in ambito chirurgico. Spiegare i medici, molto spesso si sottovaluta l'importanza del ruolo dell'anestesista nel corso di un'operazione chirurgica o, al contrario, si dà credito a preoccupazioni ormai antiche e superate. Cosa deve far sapere assolutamente un paziente o un medico prima di sottoporzione all'anestesia? Diverse cose, intanto quelle che sono le sue patologie croniche, precedenti interventi chirurgici, eventuali reazioni allergiche subite, patologie principali e medicine che prende. E poi le accortezze prima di sottoporzione all'operazione? Sì, sono relativamente banali, quindi un digiuno preoperatorio, non molto esteso e gestire le terapie mediche come l'anestesista dirà di fare.